Un contadino aveva un cavallo che era sempre triste, questo povero animale, triste come non mai, un giorno incontra un amico e dice sai ho un problema veramente grande, questo cavallo è sempre così triste, beh se vuoi te la trovo io la soluzione per farlo sorridere, come fare? Il compadino dice 1000 euro ci vuole, 1000 euro, 1000 euro, beh se la porta in stalla dopo un po' esce questo cavallo che nitrisce proprio impazzito, restate a demorare, visto che è considerato che non accennava minimamente a diminuire, il compadino dice sì ma ora basta però dice, la mafare smettere dice sappi dice che ci vuole un altro 1000 euro, un altro 1000 euro, scese, sono riportato nuovamente in stalla, dopo di che esce questo cavallo tutto silenzioso proprio, al che c'è padice, compadice ora tu mi devi spiegare la situazione, come hai fatto a farlo iniziare a ridere? E come faciste a farlo finire? Si dice che ci vuole un altro 1000 euro, va bene dice, come diciamo come faciste? Dice, per intanto per farlo mettere a ridere, ci disse che dia la viaggio grossatino, lo compadice mi sa ridere, se è perché questo dice, però è per te sa ridere, se è per farlo smettere, ci ce la faici ridere, grazie. Ui, 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 ui.